bentornati sui fatti di opinioni di lox il canale per i veri malati di sport terzo il video olimpico di questa domenica parliamo di pallacanestro la partita è slovenia contro spagna una sfida meravigliosa di una bellezza totale che metteva in paglio la vittoria del girone della pulci ma soprattutto lo vedremo dopo ha messo in paglia anche qualcosa di molto di più relativamente ai quarti di finale la slovenia ha vinto una partita di pura voglia di pura grinta e l'ha vinta con tutto il caso di supporto la vinta di squadra perché infatti oggi a differenza delle altre due partite dominate da luca doncici stavolta il talentosissimo giocatore di dallas ha avuto una giornata un po negativa soprattutto nel primo tempo dove è stato protetto zero dagli arbitri è stato curato meravigliosamente da una staffetta spagnola di squadra messa in campo con abalde e claver che si sono occupati di lui è uscito completamente dalla partita ha fatto tre falli nel solo primo quarto di gioco di cui due in attacco probabilmente aveva fatto anche un quarto fallo in attacco nel quando è rientrato in campo nel secondo quarto ma gli arbitri hanno deciso invece di cambiare la decisione e fischiare il fallo a rubio in un intervento comunque 50 50 slovenia quindi che ha avuto di meno dal suo leader ma ha avuto la squadra la slovenia infatti soprattutto ha fatto una cosa ancora più importante ha inseguito tutto il tempo una partita perfetta perfetta molto buona della spagna che avevo visto in un'altra sfida contro l'argentina dove mi era sembrata buona ma come avevamo detto anche nel video una squadra un po datata quasi un po vecchia un po di vecchi marpioni ma proprio questa forza oggi ha permesso invece di controllare gran parte della partita con prestazioni ammirevoli di gente come rudy fernandez una gran prova di rubio ancora ciaccio invece un pochino ancora in difficoltà bravi fratelli gasol insomma una grande spagna una spagna con piena di alternative che a un certo punto sembrava aver messo un'impronta sulla partita quando mancavano sette minuti alla fine del terzo periodo un time out della slovenia dopo che due triple consecutive di rudy fernandez avevano messo la spagna più 12 di vantaggio 5 5 4 3 ma già lì la slovenia è stata bravissima perché è rientrata in partita si è riportata sotto a soli tre punti di scarto ma anche in quel caso complice un po di follie arbitrali un arbitraggio veramente allucinante nella partita di oggi la spagna ha riallungato ancora portandosi a otto punti di vantaggio ma anche lì la slovenia ha saputo rientrare ed è andata a chiudere il terzo periodo sotto di soli due punti anche nel quarto periodo stesso discorso spagna che allungato si è portato avanti di sei punti e slovenia che ancora una volta è riuscita a recuperare il margine degli spagnoli grazie anche a un grandissimo lavoro sotto i rimbalzi sotto le planche da parti sia di dimec sia di tobey che sono stati decisivi la slovenia ha vinto 51 a 41 la sfida rimbalzo contro gli spagnoli e nei minuti finali della partita con un paio di invenzioni di doncic per i precisissimi compagni specialmente cianciar che ha giocato una partita eccezionale la slovenia riuscita a mettere naso avanti nel finale errori nelle triple prima del prima dell'ottima balde poi di rubio hanno impedito alla spagna di vincere la partita successo alla fine straconvincente di questa slovenia che è veramente un gruppo veramente una squadra veramente piena di talento in ognuno dei suoi giocatori come dicevamo il valore di questo di questa vittoria è doppio perché infatti anche per la pala canesso si assiste a un sorteggio per la definizione del tabellone dei quarti di finale una pool con le tre vincitrici dei gironi più di usa come migliore seconda le altre squadre nella pool b e come le mie come le seconde le terze classificate ebbene il verdetto del sorteggio vede la slovenia che giocherà contro la germania nel lato del tabellone che vede anche francia italia quindi per l'italia dei miei sacchetti una partita molto complessa ma d'altra parte l'italia avrebbe potuto pescare da questo sorteggio francia slovenia ottime 6 quindi comunque sia un sorteggio molto complesso vediamo come andrà contro la francia viceversa l'altro lato del tabellone la spagna sconfitta in questa partita ha pescato tv 6 quindi avremo un quarto di finale stellare tra gli usa e la spagna l'altra partita sarà l'australia contro l'argentina un quarto diciamo forse da un certo punto di vista meno nobile tra due squadre però capaci anche anch'esse di un ottimo di un ottimo basket l'argentina questa mattina abbattuto di 20 punti giappone è riuscita a entrare tra le migliori terze qualche dato sull'incontro di oggi è la spagna tirato col 38 per cento 36 da tre la slovenia con 42 32 da tre poche palle perse 8 per la spagna 10 per la slovenia la spagna addirittura aveva solo due palle perse alla fine del primo tempo detto dei rimbalzi 41 51 qualche dato sulle prestazioni individuali non ci c'è una brutta giornata come oggi ha segnato 12 punti 2 su 7 al tiro male anche al tiro libero 6 su 11 ma ha preso 14 rimbalzi dato 9 assi e se è andato a un passo della tripla doppia eccellente toby 16 punti e 14 rimbalzi eccellente prepelic 15 punti 9 su 10 il tiro libero eccellente cianciar 22 punti con 8 su 12 al tiro quindi un po tutto il cast sloveno ha giocato molto bene da non dimenticare di match 6 punti e 5 rimbalzi fondamentali soprattutto nel terzo periodo anche per dare un po di riposo a toby nella spagna notevole come sempre la prestazione di rubio 23 punti ma un po impreciso al tiro 7 su 23 di cui 1 su 8 da tre punti 9 assist una sola palla persa nel finale rudy fernandez come detto commovente 12 punti 4 su 9 un gran lottatore 10 giocatori a segno nella spagna tutti quelli che sono entrati in campo tranne garuba claver 4 punti più 6 a balde oltre al gran lavoro difensivo 14 punti e 4 su 7 da 3 veramente un gran giocatore dicevamo dell'arbitraggio come detto uno dei problemi di questo di queste olimpiadi il bosniaco zurapovic il francese rosso imperdonabile il canadese callio un arbitraggio pieno di confusione pieno di mancanza di metro pieno di fischi poliposizione falli tecnici protagonismo un arbitraggio veramente brutto la partita era inarbitrabile per certi aspetti perché si è trattata di una battaglia di un livello assoluto probabilmente nessuno dei tre arbitri aveva però delle armi al suo delle armi per poter fronteggiare un incontro di questa difficoltà la mia pagella per questo arbitraggio e 5 e mezzo zurapovic 4 russo e 4 al canadese callio che comunque come dia fatto notare anche giustamente me ne chiese in un altro aveva questa maglia sudata perché la partita deve essere stata un dispendio anche fisico notevolissimo però l'arbitraggio ha avuto poco metro poca continuità e soprattutto la misura anche di don cic che nel primo tempo appunto ha ricevuto zero protezione nel secondo tempo invece aveva fallo per ogni sospiro anche dei difensori spagnoli falli tecnici almeno tre così a memoria senza avermi senza riguardare gli appunti insomma un arbitraggio brutto grazie ragazzi like per il video iscrivetevi al canale vi aspetto numerosi campanella per essere avvisati dei prossimi contenuti e prepariamoci alle quarti di finale che saranno assolutamente straordinari intanto vi ringrazio ciao a tutti e un bacio da l'ox ciao